secondo quanto riferito megan markle è rimasta umiliata dopo che la sitcom i griffin è diventata l'ultimo spettacolo satirico a prendere di mira lei il principe ferri ed è disperatamente di riscattare la loro reputazione negli stati uniti dopo che un recente episodio di family guy della fox ha preso di mira il nuovo stile di vita di megan markle del principe ferri in california secondo quanto riferito la duchessa si sente umiliata e la rappresentazione autointitolata è totalmente ingiusta la clip vede il protagonista peter griffin dichiarare che partirà per la sua missione da solo proprio come megan markle il principe ferri mentre lo scenario passa i sussex che si rilassano accanto a una lussuosa piscina prendendo in giro in modo satirico il loro atteggiamento del fare da soli un maggiordomo appare sullo schermo con una pila di buste che rivela essere i milioni di netflix della coppia per non si sa cosa il personaggio di megan interviene dicendo che è ora di pubblicare il post sponsorizzato a sei cifre su instagram mentre ferri sospira dichiarando non avrei dovuto lasciare le sciocchezze inventate dato che lo spettacolo sembra colpire anche la monarchia fonti vicine alla coppia hanno detto al mirror che la coppia si sente come se non venisse presa sul serio e addirittura descritto l episodio come un insulto oltraggioso sostengono che quest'ultimo attacco dall'interno di hollywood ha reso chiaro a megan e ferri che il favore pubblico si è rivolto contro di loro nel paese che ora chiamano casa con la madre di due figli disperatamente di sistemare la loro reputazione come lei tenta il suo ritorno a hollywood la fonte ha aggiunto sono in piena modalità panico la situazione è diventata così terribile per i sussex che secondo quanto riferito megan sta chiedendo a suo marito di perdonare la famiglia reale con cui entrambi hanno brutalmente tagliato i legami nel 2020 l'ultimo colpo contro la coppia nella cultura pop arriva dopo che south park ha condiviso il proprio sguardo satirico sulla coppia in un episodio andato in onda a febbraio